Buon pomeriggio a tutte e tutti, ben trovati. Oggi vedremo un pochino insieme le diverse opportunità che l'Unione Europea offre per i giovani, quindi un target che va più o meno dai 18 ai 30, con un'eccezione che vedremo oggi. Sono Rosalia Marchese, dicevo, sono la project manager dell'Associazione Scambi Europei, che ve lo ricordo già da subito, in collaborazione con l'Informa Giovani del Comune di Bologna, abbiamo una collaborazione con lo sportello Finestra sul Mondo, da cui prende anche l'evento oggi. È una grande opportunità soprattutto per i giovani per trovare un'opportunità all'estero in base ad un profilo individuale. ci sono due incontri al mese ogni, diciamo, il giovedì, quindi si può cercare il canale sul web e ci si può iscrivere tramite l'Informa Giovani. Poi magari più in là sorgono le domande e lo ricorderemo. Note sul workshop, non ci sono essenzialmente delle regole, ma il mio invito è quello proprio di partecipare. Quindi fate tutte le domande che vi vengono in mente, io sono qui, per quel che so, cercherò di rispondervi. Vediamo un po' cosa vedremo oggi. Innanzitutto vedremo una breve presentazione di chi siamo noi di Scambi Europei, perché magari vi può interessare anche come canale per trovare ulteriori opportunità e poi ci addentreremo rispetto a quelle che sono le diverse opportunità. Quindi vedremo gli scambi giovanili in Erasmus Plus e le attività di partecipazione dei giovani. Continueremo con l'altro programma dell'Unione Europea, che è quello del Corpo Europeo di Solidarietà. E qui vedremo soprattutto il volontariato, i progetti di solidarietà e infine quelli che sono, che è una nuova azione del programma, che è l'Humanitarian Aid Volunteers. Infine presenteremo molto brevemente una delle opportunità che al momento abbiamo attive, che è molto particolare. E partiamo subito con chi siamo noi. Noi siamo un'associazione attiva dal 2009. Ci occupiamo di offrire ai giovani diverse opportunità di mobilità in Europa tramite appunto quelli che sono i programmi finanziati dall'Unione Europea. Inoltre abbiamo un portale che è scambioeuropei.info, che è un raccoglitore di diverse opportunità non solo di scambi culturali e o volontariato, ma anche stage, lavoro, borse di studio. È totalmente gratuito, non è richiesta alcun tipo di registrazione, quindi è una grande risorsa per i giovani che vogliono trovare un'opportunità per andare fuori. Considerate che io quando ero ancora teenager, che scambioeuropei non era proprio nei miei orizzonti, è uno dei canali che utilizzavo spessissimo per trovare appunto opportunità all'estero, quindi diciamo che è conosciuta un bel po'. Passiamo adesso al programma Erasmus Plus. Che cos'è? Tutti lo conosciamo per il classico Erasmus Studio, no? Vado in Polonia per sei mesi tramite l'università, vado a fare il mio percorso di studio, do qualche esame e poi al ritorno mi convalida nei crediti. Tutti lo conosciamo soprattutto per questa azione, ma appunto è una delle tantissime azioni che il programma offre. In realtà è un programma che dura sette anni, che si occupa di studio, sì, ma anche formazione giovani e sport. E all'interno ci sono anche diverse azioni chiave. La più importante, sicuramente quella che è più di vostro interesse, è quella per la mobilità individuale, appunto. Vediamo fin da subito gli scambi di giovani. Cosa sono gli scambi di giovani? Sono progetti che mirano a riunire un pochino diversi gruppi di giovani da diverse nazioni, quindi è importante la mobilità, l'incontro tra paesi, tra nazioni e tra giovani ed è un'esperienza soprattutto formativa perché ci si incontra per trattare uno dei temi che può essere di sensibilità o dei giovani o dell'Unione Europea. Ma li vedremo più nel dettaglio. Cosa sono? È appunto un programma di apprendimento non formale. Soffermiamoci un attimo sulla parola non formale. Cosa significa? Che voi non è che andrete ad ascoltare una lezione frontale come stiamo facendo adesso o la classica lezione a scuola in cui c'è il docente che parla e l'audience che si annoia e non vede l'ora che l'ora e mezza finisca. È tutto il contrario. I giovani sono partecipi e sono partecipanti attivi e ci sono alcune sessioni molto dinamiche, quali ad esempio il teatro dell'oppresso, simulazioni, giochi di ruolo e via dicendo. Quindi è qualcosa di veramente partecipativo. Ci sono appunto dei gruppi di giovani che partecipano. Quindi di media si va dai 13 ai 30 anni, ma adesso lo vedremo più nello specifico. Ci devono essere almeno due paesi e un paese si deve sicuramente spostare. Solitamente più o meno si parla di quattro paesi rappresentati. E poi ci sono diversi argomenti possibili. Come vi dicevo prima, possono essere o di sensibilità dell'Unione Europea o di sensibilità e degli interessi dei giovani. Possono essere ad esempio sull'ambiente, sull'inclusione sociale, su qualsiasi tema possibile. Per farvi un esempio e per capire meglio quello che può essere uno scambio culturale, vi racconto magari il mio primissimo scambio, che è stato in Svezia. Io sono partita con un gruppo di altri quattro giovani più un gruppo leader. Il target era 18-25, quindi avevamo tutti tra i 18 e i 25 anni. Siamo partiti dall'Italia, da diverse parti d'Italia, tra l'altro poi ci siamo incontrati all'aeroporto di Bergamo. Siamo partiti tutti insieme per andare in un paesino sperduto in Svezia. In mezzo alla campagna non c'era niente, solo mucche e poco altro. Qual era il tema principale? Il tema era l'inclusione dei gruppi siriani, perché eravamo in piena emergenza dei rifugiati siriani e quindi era stato sviluppato questo progetto per comprendere come i giovani potessero effettivamente supportare quella che è l'inclusione nelle diverse comunità e in Unione Europea. Arrivati lì abbiamo incontrato diversi gruppi. C'era ad esempio il gruppo lituano, il gruppo greco, gli svedesi ovviamente e, se non vado errata, il gruppo francese. Su questo non ne sono sicura, però lasciatemelo passare. Come si è svolto il progetto? Era un progetto di cinque giorni, più o meno. I primi giorni c'è stata proprio la parte di conoscenza reciproca, quindi creare fin da subito un forte senso di gruppo. Anche perché, pensate che ci si incontra in un gruppo abbastanza numeroso, diverse nazioni, molti magari pensano di avere un problema linguistico e quindi hanno un po' paura a lasciarsi andare, che poi solitamente sono delle paranoie che ci facciamo noi, ma che non esistono. E quindi queste attività molto di gruppo servono appunto a superare tutte queste paure e a creare subito delle sinergie, oltre ad essere anche molto divertenti. Fate conto che, ad esempio, c'era il gruppo lituano che era molto molto piccoli e loro davvero non sapevano l'inglese e quindi erano un po' intimiditi, anche se supportati dal gruppo leader. Grazie a queste attività, pian piano si sono sbloccati e fin da subito sono riusciti a comunicare, anche se non in inglese, ma utilizzando magari i gesti. Quindi questo è anche il potere dell'educazione non formale, superare tutte le paure. Altra parte successiva dello scambio è stata poi quella di comprendere quelli che sono gli stereotipi che ognuno di noi, sia a livello individuale che a livello di cultura, ci portiamo dietro. Ad esempio è stata fatta un'attività molto famosa che si chiama l'Abigail Story, in cui, proprio con questa storia resa nel modo più neutro possibile, i gruppi messi insieme devono decidere quali dei personaggi sono stati più buoni e più cattivi. Ovviamente è un'attività un po' tricky, perché poi si creano delle discussioni all'interno dei gruppi che vanno a fare capire che ognuno di noi si porta delle bias, degli stereotipi, dei preconcetti che sono o individuali o culturali. E quindi quello è stato il primo passo per comprendere quello che è il nostro contesto, quindi nel rapportarci con gruppi diversi dalla nostra cultura, quale può essere quello siriano, ovviamente anche se non ce ne rendiamo conto, anche se non vogliamo, abbiamo qualcosa che ci scatta dentro, degli schemi mentali. E questa è stata una parte dello scambio. Parte successiva invece è stato più di empatizzare con quel gruppo lì, mettersi nei panni degli altri. E un'attività è stata, ad esempio, dato che eravamo in un posto sperduto della Svezia, i gruppi leader ci hanno lanciato nel boschetto lì vicino, ci hanno diviso in due gruppi e ci hanno detto voi siete due gruppi di siriani e dovete attraversare il confine turco. Troverete nel percorso diverse sfide e tra l'altro, dato che siete un gruppo, sicuramente tra di voi ci sarà, ad esempio, un bambino che non può camminare, una persona anziana con la gamba rotta, quindi delle difficoltà all'interno del gruppo. Nel percorso, che chiaramente era tutto messo in sicurezza, c'era, ad esempio, i gruppi leader che facevano da pulizie, dovevano controllare il fiume da superare. E ovviamente questa è stata un'attività per, sì, mettersi nei panni degli altri, purché chiaramente è abbastanza superficiale rispetto a quello che effettivamente si prova in un percorso del genere, ma che ha fatto capire all'un per cento quello che queste persone passano. Parte successiva dello scambio è stata quella di, invece, trovare delle soluzioni rispetto all'inclusione sociale che ognuno di noi può mettere in atto, proposti appunto dei giovani. E tra l'altro, in questo senso, poi si è fatto un giro nel paesino per chiedere alla gente del posto effettivamente loro cosa ne sapessero dei rifugiati siriani, cosa ne pensassero, così da incentivare anche un po' promuovere l'inclusione già fin da subito, oltre che promuovere il programma. Questo è solo un esempio, appunto vi dicevo prima, le tematiche possono essere tantissime, si va dalla sostenibilità ambientale, l'occupabilità, c'è la qualsiasi. Chi può partecipare? Si parla di giovani tra i 13 e i 30 anni. Questo è quello che dice il programma, quindi quello che l'Unione Europea pensa che siano i giovani. Chiaro è che nessuno si sogna di mettere insieme un tredicenne e un trentenne, perché sono due generazioni diverse. Quindi il programma dà questa possibilità. Poi sta alla sensibilità, agli interessi delle associazioni che organizzano questi progetti a restringere il range. Ad esempio ci possono essere scambi che vanno dai 13 ai 15 anni. La maggior parte degli scambi sono tra i 18 e i 25, tra i 18 e i 30. Quindi nelle diverse call vedrete appunto questo range di età e vedete se ci rientrate. non ci sono altri criteri di selezione nel senso che di media non bisogna essere studenti, o almeno non per forza, non bisogna essere lavoratori o perlomeno non per forza. L'unica cosa che si richiede ai partecipanti è di essere effettivamente motivati, motivati all'argomento. Io tra l'altro spesso mi occupo delle selezioni dei partecipanti italiani che partono per gli scambi culturali e molto spesso si legge ad esempio voglio partecipare in questo scambio in Spagna perché non ho mai visitato la Spagna. Ecco, questa non è una buona motivazione. Quando scrivete le lettere di motivazione cercate sempre di toccare quella che è la tematica che viene affrontata all'interno dello scambio e non il dove. Come vi dicevo prima il gruppo è sempre accompagnato da un gruppo leader. Il gruppo leader è solitamente una persona maggiorenne con precedenti esperienze negli scambi culturali o comunque nella mobilità. Può partecipare chiunque quindi non bisogna essere accreditati diciamo come gruppo leader ma è preferibile che abbia già fatto degli scambi. E adesso parliamo di soldini diciamo perché uno dice tutto bello però cosa devo mettere? In realtà questi tipi di progetti sono il più inclusivi possibili quindi vitto e alloggio è coperto durante le date di attività quindi che significa quando voi andrete allo scambio durante le date di attività l'alloggio vi viene fornito dall'associazione ospitante solitamente sono degli ostelli con delle camerate o comunque delle camere condivise dello stesso sesso e per quanto riguarda il vitto viene garantita colazione pranzo cena e due coffee breaks solitamente quindi durante le attività. Per quanto riguarda il viaggio che è forse una delle poche l'unica cosa che va anticipata va anticipata perché solitamente funziona a rimborso nel senso che ogni progetto a seconda da da dove si parte quindi dal paese in cui si parte e il paese in cui si arriva l'Unione Europea ha una griglia di distanza e da quella griglia si capisce quant'è il massimale rimborsabile mi rendo più chiara perché mi rendo conto che l'ho detta in maniera molto tecnica ad esempio Italia Spagna il massimale rimborsabile è di 275 euro cosa significa che ogni partecipante se dovesse spendere invece 300 euro quindi più del massimale gli verrà rimborsato solamente il massimale 275 c'è da dire che solitamente ci si rientra alla grande perché adesso con i voli low cost non è così difficile cosa è rimborsato è rimborsato tutti i mezzi pubblici dal momento in cui si esce dalla porta di casa fino al momento in cui si arriva all'alloggio quindi treni autobus aerei vengono tutti rimborsati chiaro che vengono rimborsati nella nella classe economy quindi se prendete la business no per avere rimborso adesso ti faccio la domanda per avere rimborso bisogna poi presentare tutti i giustificativi che vi vengono richiesti dall'associazione ospitante è possibile che le associazioni vi chiedano un contributo per partecipare e che solitamente copre almeno l'assicurazione medica durante le date di attività ricordatevi comunque che se andate in Unione Europea voi avete diritto in quanto cittadini europei alla tessera sanitaria che in in inglese vedrete che è sempre scritto EIC E-H-I-C quindi quella è magari una cosa in più dove trovo i progetti ci sono diversi canali tra i ad esempio diversi gruppi facebook su cui trovare progetti o diverse associazioni che danno questa opportunità io vi faccio vedere adesso quello che è il nostro sito in cui oltre ad offrire quelli che sono i progetti che noi gestiamo mettiamo all'interno del sito anche opportunità offerte da altre associazioni quindi da associazioni che ci chiedono di trovare partecipanti di promuovere la call per trovare partecipanti quindi diciamo che è un bacino un po' più ampio questo è il sito di scambi europei adesso non so perché stanno spuntando tutti questi riquadri bianchi e c'è la sezione scambi culturali se scorrete vedete appunto tutte le opportunità possibili in quel momento lì ad esempio scambi culturali per scoprire l'Europa gratis prossime partenze oppure scambio culturale in Turchia a tema teatro e dramma terapia dal 12 al 20 maggio come vedete ci sono diverse tematiche Spagna sulla violenza psicologica Estonia sulla sicurezza del mondo digitale quindi ci sono diversi topic diversi argomenti se apriamone per esempio uno qui vi dice ad esempio qual è l'associazione che si occupa del progetto in Italia e poi andando giù c'è scritto proprio dove avverrà lo scambio in quale periodo come vedete vi dice anche che 19 e 28 sono giorni di viaggio quindi non ci saranno attività ma vi serve solo per spostarvi chi sono i destinatari quindi i partecipanti dai 18 ai 30 anni più un gruppo leader senza limiti d'età il titolo del progetto è i paesi presenti poi c'è una breve descrizione di quello che sarà il progetto la tematica qui c'è appunto dei riferimenti rispetto a quella che è la logistica quindi l'alloggio e via dicendo profilo dei partecipanti come vedete l'età perché appunto viene data dal progetto e poi c'è interesse per il tema del progetto lingua del progetto è in inglese ovviamente e poi le condizioni economiche quindi vitto e alloggio coperti al 100% come abbiamo già detto qui la quota che l'associazione chiede è il travel budget che qui non è scritto ma solitamente è scritto inoltre vedrete sempre che c'è un infopet che è stato preparato dall'associazione ospitante e in cui ci sono tutte le altre indicazioni del caso vi consiglio sempre di leggerlo e poi c'è la guida e la candidatura quindi come faccio a candidarmi cliccate su invia la tua candidatura e inserite quello che vi viene chiesto su questa breve descrizione solitamente è CV lettera motivazionale o application form la candidatura va direttamente all'ente che si occupa della selezione quindi se siamo noi la riceviamo noi se un'altra associazione chiaramente la riceve l'altra associazione e questo è un pochino uno dei modi per appunto partecipare a questi progetti vediamo adesso quelle che invece è un'altra opportunità ancora che l'Erasmus Plus offre per i giovani che è molto diversa in un certo senso rispetto agli scambi culturali ma che è comunque molto interessante sono le attività di partecipazione dei giovani queste attività che sono appunto sempre al di fuori dell'istruzione formale servono a attivare i giovani a partecipare anche all'interno delle loro comunità cosa sono sono appunto attività di apprendimento non formale che sono ideate dai giovani stessi quindi mentre gli scambi culturali solitamente vengono proposti dalle associazioni questi tipi di attività devono essere pensati dai giovani e la cosa interessante è che possono essere sia organizzati a livello locale che a livello internazionale europeo quindi può essere anche che un gruppo di giovani decide di fare un'attività ad esempio a Bologna che so ci interessa il cinema vogliamo imparare a fare cinema facciamo un'attività che sia in quell'ambito lì dei laboratori un festival e via dicendo chiaramente con una base importante di una dimensione europea perché chiaramente ci deve sempre essere questo focus qui e infatti le attività sono diverse sono possibili a seconda degli interessi dei giovani non c'è un'esclusività di temi ma i giovani possono proporre qualsiasi tipo di attività di tema di loro interesse purché ci sia l'educazione non formale che è un vantaggio chi può partecipare come funziona possono partecipare devono partecipare i giovani però per presentare la proposta progettuale ci sono due modi o si chiede ad un'associazione di supportarvi nel caso siate interessati dato che noi siamo su Bologna sentitevi liberi in caso di contattarci oppure i giovani possono costituire un gruppo informale per costituire un gruppo informale non è necessario registrarsi nessun ente e via dicendo basta essere un gruppo di giovani fino ai 30 anni uno si attua si diventa rappresentante legale quindi è irresponsabile e per il resto basta registrarsi al portale europeo e poi cominciare a scrivere il progetto e nel caso in cui venga finanziato puoi attuarlo è diciamo un percorso un po' più lungo però se uno è abbastanza motivato perché no diversamente dagli scambi culturali questo tipo di copertura è sul progetto quindi perché chiaramente dato che un gruppo di giovani ad implementarlo si coprono le spese del progetto in modo particolare vengono dati 500 euro al mese rispetto le date di progetto in più nel caso in cui il progetto venga fatto da un gruppo informale è possibile inserire nel progetto i costi di coaching quindi è un coach che vi seguirà durante tutta l'implementazione del progetto in quel caso è possibile chiedere massimo 12 giorni nel caso in cui poi facciate organizzate pensiate ad organizzare degli eventi vengono dati ulteriori 100 euro per partecipante per evento ovviamente se il progetto prevede eventi transnazionali sono coperti anche i costi di vitto alloggio sostegno individuale come un pochino negli scambi sto andando indietro scusate eccoci qui come posso partecipare come vi dicevo o create voi il progetto come gruppo informale quindi vi ritrovate in 5 giovani e pensate al vostro progetto oppure chiedete ad una delle associazioni presenti sul territorio di supportarvi e poi di applicare diciamo il progetto per voi e poi seguirlo chiaramente passiamo invece a un altro programma dell'unione europea che è il corpo europeo di solidarietà voi siete piuttosto giovani quindi magari non lo sapete ma nasce questo programma da circa due anni a seguito del del volontariato europeo del servizio volontariato europeo il vecchio SVE questo programma però è un pochino diverso perché incorpora al suo interno diverse altre opportunità sono opportunità tutte di volontariato e che puntano a promuovere appunto il valore di solidarietà sono progetti che diciamo si muovono su due linee da una parte un impatto molto importante per il volontario sia a livello personale che professionale ma anche sociale perché diventa un cittadino attivo che sulle comunità in cui il progetto viene fatto perché c'è un beneficio molto forte sulle comunità in cui il volontario è presente questo tipo di progetto offre appunto vi dicevo diverse opportunità una di questi sono i progetti di volontariato in cui i volontari appunto vanno solitamente in un paese dell'Unione Europea o dei paesi confinanti e danno affiancano l'associazione nelle attività quotidiane vediamo un pochino come innanzitutto ci sono due tipi di percorsi possibili uno è il volontariato individuale e l'altro è il volontariato di gruppo il volontariato individuale va dai due ai dodici mesi e solitamente può essere fatto o in un paese dell'Unione Europea che può essere anche il proprio oppure in un paese confinante all'Unione Europea ad esempio non so Georgia Ucraina anche se adesso è tutto sospeso Russia e via dicendo i gruppi di volontariato invece vanno da due settimane fino a due mesi si parte in un gruppo composto dai 10 fino ai 40 volontari quindi si parte con un bel gruppo ci devono essere almeno due paesi coinvolti chiaramente solitamente è fatto all'estero ma si può partecipare anche ad attività fatte a casa propria quindi magari avendo anche un confronto con con volontari provenienti da diverse nazioni vediamo un po' chi può partecipare possono partecipare tutti quei giovani dai 18 ai 30 anni fino ai 30 anni io 30 anni compiuta posso partire e poi fare il compleanno mentre sono durante il progetto quindi ovviamente bisogna risiedere in uno dei paesi del programma non per forza bisogna essere cittadini ma risiedere legalmente e cosa copre adesso poi vedremo nel dettaglio anche che cosa sono prima ci togliamo di mezzo diciamo le specifiche tecniche anche qui vi viene offerto dall'associazione ospitante l'alloggio l'alloggio a seconda del tipo di progetto sia a lungo termine o a breve termine è comunque solitamente in una in un appartamento condiviso con altri volontari o con altri giovani esistono anche diversi casi in cui si viene ospitati in famiglia ma diciamo che non è così comune solitamente si vive con altri volontari o con altri giovani vi viene fornito un packet money mensile che viene stabilito direttamente dall'unione europea a seconda dal costo della vita del paese per farvi un esempio più pratico ad esempio noi ospitiamo dei volontari noi come scambio europeo ospitiamo dei volontari qui in Italia i volontari ricevono 150 euro al mese di packet money packet money che è una paghetta quindi serve un pochino per farsi la birra per andare al cinema al teatro e via dicendo inoltre quindi oltre al packet money oltre ad avere l'alloggio che non è una problematica e nell'alloggio sono incluse tutte le bollette i volontari ricevono anche una food allowance al contrario del packet money che viene deciso dall'unione europea la food allowance viene decisa direttamente dall'associazione ospitante che fa una valutazione sul costo della città più che sul costo diciamo della vita normale oltre al fatto che il food allowance può anche sussistere nella forma in cui ad esempio se un volontario fa delle attività all'interno di un asilo con una mensa è possibile che l'associazione dica ti diamo un po' di soldi per la colazione e la cena e per i weekend invece per il pranzo mangi in mensa per dire altrimenti viene dato un altro importo regolato a seconda dall'associazione ospitante per farvi sempre l'esempio dei nostri volontari qui in Italia noi diamo altri 150 euro quindi in totale i volontari hanno 300 euro al mese che possono su cui possono contare però queste sono appunto classificazioni che vanno fatte a seconda dal paese e dall'associazione per quanto riguarda i rimborsi dei costi di viaggio funziona esattamente come gli scambi culturali quindi i volontari hanno un massimale da utilizzare per l'andata e per il ritorno sempre complessivi sono più o meno gli stessi costi quindi che so sempre c'è la Spagna 275 la Francia siamo più o meno lì inoltre oltre quindi già alloggio packet money food allowance trasporti locali e costi di viaggio i volontari possono contare su un'assicurazione medica se il progetto viene svolto in Unione Europea l'assicurazione medica primaria è quella europea quindi quella su cui tutti possiamo contare in alternativa hanno anche un'assicurazione complementare che è un accordo che prende l'Unione Europea ogni sette anni ad esempio per questo settennato è sempre signa e copre un pochino tutte le spese che l'assicurazione primaria non copre quindi è una cosa in più che i volontari hanno e in più se il progetto dura più di due mesi esiste il supporto linguistico quindi vi viene offerto un corso di lingua di media per i paesi europei è stata creata una piattaforma che si chiama Online Linguistic Support OLTS che si può seguire appunto un corso di lingua della realtà locale oppure se il progetto ha sede in uno dei paesi che non è incluso nell'OLTS vi viene fornito un corso di lingua oltre a questo se il progetto dura sempre più di due mesi ogni volontario ha il diritto e la responsabilità di partecipare a delle formazioni sicuramente una formazione pre partenza da parte dell'associazione di invio una formazione all'arrivo che solitamente viene organizzata dall'Agenzia Nazionale e se è superiore a sei mesi una formazione a metà progetto e adesso sì è esattamente più o meno così nel senso che è pensato per poterlo fare una sola volta nella vita però ci sono delle eccezioni se fai prima un adesso vediamo un pochino perché questo è un po' complicato ammettiamo che si faccia prima un individual long term quindi più di due mesi volentieri in un posto in un posto in quel caso non si può più fare uno short term individual ma puoi fare tutti i volontieri in teams che vuoi nella vita quindi i volontieri in teams li puoi fare sempre se invece fai prima uno short term individual puoi fare sia un long term dopo fino a dieci mesi che un volontieri in team perché i volontieri in team si possono sempre fare se parti facendo un volontieri in team puoi fare tutti i volontieri in team che vuoi nella tua vita poi puoi fare o uno short term e poi un long term oppure passare direttamente al long term è un po' complicato fino a due mesi massimo 61 giorni compresi giorni di viaggio altre domande datemi pure del tuo è il programma European Solidality Corps però quello può essere la qualsiasi dovresti chiedere all'associazione di riferimento che tipo di progetto è se però utilizzi il canale ufficiale il portale del Corpo Europeo di Solidarietà solitamente se hai già fatto un progetto ti dovrebbe nascondere gli altri che non puoi fare dovrebbe hai già fatto un long ok allora dicevo vediamo qualche esempio perché abbiamo appunto fatto molta teoria però vi volevo dare anche degli esempi pratici però dato che hai fatto un long magari ci puoi raccontare del tuo allora in realtà devo sapere come il posto ma e qual'era la tematica ok e qual'era la tematica ok che le cose non hanno avuto la l'attività di l'attività di e dopo mi hanno mandato il paese a fare il e io e la l'attività che dipenda a l'attività dell'attività di Sì, certo. Sì, dipende molto dal progetto e chiaramente il Covid non ha aiutato molti progetti, bisogna dirlo. Per farvi qualche altro esempio, anche qui i progetti possono toccare diverse tematiche a secondo un pochino dal lavoro che le associazioni fanno. Chiaramente devono sempre rispettare degli standard, o dovrebbero, e devono essere tematiche vicine alla solidarietà, alla partecipazione attiva, all'engagement delle comunità e ad un supporto che si può dare a target group più o meno sensibili. Qui vedete una lista di possibili argomenti e vi faccio qualche esempio di qualche progetto di successo che noi abbiamo portato avanti come associazione. Di sicuro uno è un volunteer in team short term a Gaziantep, che è una città di confine con la Siria, quindi si trova in Turchia, quello ad esempio lo potresti fare. È un progetto di circa 45 giorni e i volontari vanno in questa associazione e lavorano soprattutto con bambini sia turchi che siriani per supportarli a interagire fra di loro, ma anche a sviluppare delle competenze. Ma ci sono anche dei laboratori ad esempio con giovani o con adulti che possono essere ad esempio insegnamento dell'inglese, abilità informatiche e via dicendo. I volontari ci hanno sempre detto di avere un po' avuta cambiata la vita dopo questo progetto perché sicuramente è ad alto impatto. Molti sono rimasti lì anche con altre associazioni, hanno ad esempio aiutato altre associazioni a ospitare volontari, facendo anche fundraising e via dicendo. Un altro tipo di progetto, sempre short term ma completamente diverso, sempre in realtà in Turchia, è quello della sostenibilità ambientale. Soprattutto si lavora in alcune specifiche stagioni dell'anno con le tartarughe marine. Non so se conoscete un pochino la storia molto triste in realtà delle tartarughe marine, che loro quando nascono, nascono diciamo in spiaggia e devono andare subito al mare, subito in acqua. E in quello seguono il luccichio dell'acqua, solo che con lo sviluppo delle città le tartarughe si confondono e quindi guardano le luci della città e vanno verso la città, quindi vanno nella direzione opposta. In questo caso i volontari fanno attività di notte proprio per aiutare le tartarughe ad andare nella direzione giusta. Fanno altre attività di pulizia delle spiagge, ad esempio, oppure nei periodi in cui le tartarughe non nascono fanno anche attività di sensibilizzazione con scuole e con la comunità sul mantenimento della pulizia delle spiagge e della protezione di questa specie. Altri tipi di progetto possono essere, ad esempio, più invece sulla formazione. Per esempio noi abbiamo dei progetti, diversi progetti attivi in Russia, a Samara, in cui i volontari si occupano di dare un supporto a degli acili e delle scuole che anziché ostilizzare la solita educazione che utilizziamo molto spesso anche noi in Europa, usano un'educazione steineriana in cui un po' i bambini sono più attivi, fanno dei giochini, leggono delle storie, scoprono le tradizioni e via dicendo. Sempre per darvi diversi tipi di esempi ci possono essere invece progetti più sui media e sulla digitalizzazione. Ad esempio i nostri volontari ospitati qui a Bologna fanno delle attività di comunicazione per promuovere quello che è il programma stesso. Oppure un'associazione, ad esempio in Grecia, con cui collaboriamo, fanno video editing, scrivono sul giornale online, su soprattutto tematiche di diritti umani e LGBT, quindi ci sono diverse possibilità. Come posso trovare il mio progetto? Sì, vai, fai tutte le domande del caso. Sì, vai, fai tutte le domande del caso. Allora, penso di sì, però in realtà ogni progetto... Allora, di media ogni progetto ha un finanziamento e il finanziamento viene dato da un numero di giorni. Quindi di media c'è un numero fisso di mesi o giorni del progetto, quindi non è a libera scelta del volontario. Per la partenza a volte è più o meno flessibile, nel senso che se un progetto si trova in Romania e non trova partecipanti, è possibile che si dica il progetto dovrebbe iniziare più o meno a settembre, per fare un esempio, decidiamo insieme al volontario quando farlo partire. Però dalla data di partenza poi si calcolano i mesi finanziati dal progetto, quindi su quello raramente è il partecipante a decidere. Chiaro è che poi voi iniziate il vostro progetto, nessuno vi lega lì e non potete più tornare a casa, quindi quello mettetelo in conto. Però mettete anche in conto che se un progetto è pensato per durare sei mesi è perché dietro c'è una progettualità, ci sono degli obiettivi da raggiungere, ci sono anche dei fabbisogni formativi del volontario. E pensate anche che nel caso in cui abbandoniate poi il progetto, chiaro è che si mette in difficoltà anche magari quei finanziamenti che sono stati stanziati e che poi vanno a vuoto. Però questo per dire che nel caso di problemi vari, problemi di salute, problemi a casa, si può sempre tornare. Ok, vi dicevo, come posso trovare il progetto? Ci sono diversi modi, anche perché appunto ogni associazione ha già magari dei progetti attivi che sono già finanziati e che quindi si cercano direttamente volontari. Fate conto che in ogni progetto è inclusa un'associazione di invio, che deve essere un'associazione nel vostro caso italiana, e un'associazione ospitante, che invece è l'associazione che poi vi ospita. E quindi c'è un partenariato. Nel caso in cui vi affidiate, sì finisco la frase, nel caso in cui vi affidiate ad un'associazione di supporto, chiaramente avrete già possibilità di avere un supporto, di poter fare delle domande, anche perché è probabilmente un partenariato già nato. Dimmi. Esatto. Allora, tutte le associazioni partecipanti al programma Corpo e l'operabilità possengono un quality label che viene dato dall'Agenzia Nazionale. Quindi diciamo che bisogna rispettare degli standard che vengono garantiti da questo quality label. Nel caso del volontario, quindi il caso voglio andare in Francia, trovo l'associazione francese e chi mi fa da associazione di invio, in questo caso ci sono diverse opportunità. O l'associazione francese ha già stipulato un accordo, e quindi sarà l'associazione francese a dirti, l'associazione di riferimento in Italia, XY, contattala o ti mette in contatto. Oppure ti dicono, guarda, noi non abbiamo un partenariato attivo, se tu conosci qualcuno, facci sapere. E quindi magari tu conosci ad esempio noi, ci contatti e ci dici, ho trovato questo progetto, mi potete fare l'associazione di invio? Per fare un esempio. Però crearla da nuovo no, perché chiaramente non farebbe in tempo ad accreditarsi. Niente, altre domande? Ok, diciamo che ci sono appunto due canali, o andare direttamente al portale del Corpo Europeo di Solidarietà, che è l'unico portale ufficiale, diciamo, del programma, e lì sarete voi a vedere le diverse offerte e fare un match, diciamo. Quindi contattate voi l'associazione, oppure l'associazione che contatta voi, fate il vostro Skype e poi subentra dopo l'associazione di supporto. Oppure ci sono diversi altri canali e diverse altre associazioni che hanno già ad esempio dei partenariati attivi. Adesso vediamo un pochino tutti e due i portali. Questo è il portale dell'Unione Europea, del Corpo Europeo di Solidarietà. Come vedete, per capire che è un portale dell'Unione Europea, basta vedere che il sito finisce con EU, quindi è dell'Unione Europea. E qui c'è il portale in cui voi potete scrivere chi siete i giovani o l'organizzazione, in questo caso voi sarete giovani. Vi registrate e trovate le diverse offerte, tipo qui sono le ultime opportunità inserite. Come vedete viene scritto il titolo, dove viene fatto, le date e se c'è una scadenza per presentare la domanda o meno. Quindi voi in caso potete leggere l'opportunità e se siete interessati candidarvi. Nel caso in cui poi l'associazione reputa che il vostro profilo è interessante, vi contatta e vi chiederà ulteriori documenti, farete una Skype e via dicendo. Oppure, l'altra opportunità, come vi dicevo, è sempre interfacciarsi con un'associazione già accreditata italiana. Vi faccio l'esempio sempre del nostro sito, che ha al suo interno la categoria volontariato europeo e esattamente come gli scambi ci sono diverse opportunità. Ad esempio, qui in Finlandia, fattoria biologica, sette mesi da maggio 2022. Oppure, Turchia, inglese ai bambini. Spagna, sempre a scuola per due mesi. Turchia, tartarughe marine, quello che vi dicevo prima appunto. Gaziantep, questo è quello che vi ho raccontato sempre prima. Oppure Ungheria, ecovillaggio. Apriamo ad esempio il primo, che è quello che non avevamo magari visto. e funziona lo schema, diciamo, è sempre quello. Titolo del progetto, il periodo, come vedete qui ad esempio viene detto partenza flessibile, quindi sarà l'associazione ospitante insieme al volontario a decidere. Sette mesi, la durata è quella. La descrizione del progetto, questo è molto particolare perché è una fattoria. I requisiti, che anche qui solitamente non ci sono grossissimi requisiti se non quelli di rispettare l'età che viene data dal programma e poi la motivazione, chiaramente, è a seconda dal target group di riferimento con cui ci si andrà a interfacciare. Chiaro che si deve avere una più particolare sensibilità, quindi se vado a lavorare con i bambini, chiaro che mi devono piacere i bambini altrimenti che ci vado a fare. Condizioni economiche, qui è quello che ci si hanno già detti quindi vitto e alloggio garantiti, viaggio andato a ritorno, coperto fino al massimale, assicurazione e via dicendo. Solitamente anche qua c'è un infopack e poi c'è come candidarsi quindi qui vi chiedo ad esempio il CV e l'application form che potete cliccare e scaricarle e poi cliccate su inviato a candidatura e lo mandate. Questo è uno dei modi, comunque in ogni caso anche se voi scegliete di affidarvi ad un portale che non sia quello del Corpo Europeo di Celerità quindi il canale ufficiale diciamo poi dovrete sempre registrarvi al Corpo Europeo di Celerità perché dovete avere il numero di riferimento quindi comunque potete sempre iscrivervi al Corpo Europeo di Celerità tenervi il numero e muovervi su due fronti che male non fa. Ok. Vediamo un'altra opportunità ancora che il programma Corpo Europeo di Celerità offre che sono i progetti di solidarietà. sono molto simili alle attività di partecipazione giovanile nel senso che è sempre un gruppo di giovani che si attiva, che pensa al progetto e che poi lo implementa lo può implementare sia nella comunità locale quindi ad esempio nel vostro caso a Bologna che transnazionale. E vediamo un pochino cosa sono. è appunto sviluppata e attuata dai giovani stessi per un periodo che va dai 2 ai 12 mesi. Il gruppo deve essere composto da almeno 5 giovani e deve trattare un tema solidale quindi che esprime e promuove la solidarietà. Chiaramente ci deve essere sempre una dimensione europea anche se lo fate nella comunità locale la prospettiva deve essere quella di una dimensione europea. Chi può partecipare? Questa volta deve essere un gruppo composto da almeno 5 giovani tra i 18 e i 30 anni ovviamente legalmente residenti. Il gruppo come fa a partecipare a questo programma? Quindi come fa a ideare e a farsi finanziare il progetto? O fa il gruppo informale anche qui oppure si affida ad un'associazione e chiede all'associazione di supportarli e poi presentare il progetto. Specifiche e coperture. La sede dovrebbe svolgersi nel paese del richiedente quindi se ad esempio voi siete un gruppo di 5 giovani e vi trovate a Bologna il progetto dovrebbe svilupparsi a Bologna. Durata del progetto abbiamo detto dei 2-12 mesi costi funziona più o meno come le attività di partecipazione dei giovani quindi 500 euro al mese per il progetto fino ad un massimo di 12 mesi abbiamo detto e costi del coaching che sono massimo 12 giorni 214 euro al giorno. Per farvi un esempio noi abbiamo portato avanti questo progetto che si chiama Frequenze Inclusive e che come output come risultato ha dato questo podcast che si chiama Dammi il Tiro lo potete ascoltare anche su Spotify è un progetto che è stato pensato da diversi giovani e che hanno pensato di intervistare diverse associazioni qui a Bologna per dare voce a quelle che sono le opportunità a cui i giovani possono partecipare è stato intervistato ad esempio Camilla il supermercato quello a chilometro zero è partecipativo e altre realtà è stato quindi un modo per i giovani per esprimere il loro concetto di solidarietà ce ne possono essere di diversi altri tipi quindi qualcuno può pensare di creare dei laboratori invece sul genere quindi su come abbattere la tematica del genere qualcun altro può pensare a creare un festival sulla danza quindi di qualsiasi tipo di interesse giovanile purché ci sia si è espressa da una parte la solidarietà ci sia una dimensione più o meno europea e ci sia un beneficio per le comunità per ultimo vediamo un altro tipo di opportunità che questo è molto molto importante è diciamo la continuazione di quello che è l'European Union Aid Volunteers che adesso è diventato Volunteering Under the European Voluntary Humanitarian Aid Courts molto complicato come nome molto pomposo però è un programma molto molto interessante perché dà l'opportunità a giovani da 18 ai 35 anni quindi è l'unico progetto all'interno dei programmi europei che è pensato fino ai 35 anni e che dà l'opportunità appunto ai giovani europei di andare in paesi fuori l'Unione Europea e fuori da paesi confinanti per fare attività di solidarietà di comunità questi tipi di progetti partiranno dal prossimo anno ve lo dico perché è partito il programma l'anno scorso e c'è stata tutta la trafila per le associazioni per accedere al quality label quindi per essere accreditati e poi presentare finanziamenti e i finanziamenti saranno concessi a partire da settembre quindi significa che i progetti non partiranno prima di fine dell'anno o inizio dell'anno prossimo però tenetelo a mente perché è una grande grande opportunità possono essere inclusi ad esempio paesi e quindi progetti svolti in India in Messico in Peru in Cile quindi tutti quei paesi fuori assolutamente fuori dall'Europa quindi è molto interessante per quello e non non va in conflitto con il corpo di settore volontariato quindi puoi fare prima il volontariato e poi quello il contrario invece non è possibile cosa sono appunto sono attività di volontariato in paesi terzi che permettono ai giovani di contribuire alla società con attività di volontariato a breve e a lungo termine e si mira un po' a migliorare le condizioni della vita dei paesi riceventi chiaro è che verrà sempre rispettata la sicurezza dei partecipanti quindi non verrà in caso di calamità o catastrofi naturali il volontario sarà sempre protetto almeno per quanto ci possa che tipi di progetti sono previsti anche qui si segue la stessa logica del volontariato nel corpo europeo di severità quindi ci possono essere o progetti di volontariato individuale quindi pensati a lungo termine dai 2 ai 12 mesi in quel caso chiaramente ci saranno compiti più di affiancamento all'associazione ospitante perché se un progetto è pensato per non so 9 10 12 mesi chiaro è che ci saranno compiti che prevedono anche quello che il volontario poi diventi un po' responsabile delle sue task stesse che quindi diventi quasi una risorsa per l'associazione possono essere diversi tipi di di attività quindi ad esempio anche che possono riguardare l'amministrazione la comunicazione il la scrittura di progetti ma anche attività più a contatto con i target chiaramente e poi ci sono invece gruppi di volontariato che sono brevi perché vanno dalle due settimane fino ai due mesi e si parte sempre in gruppo gruppo composto da minimo di 5 fino al massimo di 40 partecipanti quindi anche lì ehm molto corposi chiaro è che dato che il progetto è a breve termine ci saranno attività più dinamiche più di gruppo quindi ad esempio il programma dà come esempio la distribuzione di prodotti alimentari la pulizia di un'area specifica attività di animazione nei campi profughi e via dicendo quindi più più dinamiche chi può partecipare ve l'ho anticipato è l'unico che va da 18 ai 35 anni e bisogna provenire dai paesi membri o dai paesi associati al programma importante al contrario del corpo europeo di solidarietà nel settore volontariato quello in Europa in cui la selezione può venire a posteriori qui vi dovete in caso registrare al corpo europeo di solidarietà e prima di accedere alle diverse opportunità dovete partecipare a un corso di formazione organizzato da Bruxelles dall'agenzia esecutiva del programma quindi solo dopo che avrete partecipato a questo corso di formazione vi sarà possibile partecipare a questi tipi di progetti avevi una domanda vero? allora in questo caso non ti so ancora dire perché è un programma nuovo però tenderei a dirti di no però questo te lo lascio come punto interrogativo in caso ci risentiamo prossimamente quando avremo più informazioni altre domande? ok la copertura viene dato un packet money ai volontari che è comprensivo diciamo di tutto è 32 euro al giorno non importa dove si va e va a coprire va a coprire il packet money e il e il cibo quindi vi viene dato e va a coprire anche il costo di viaggio quindi non è pensato come il volontariato all'interno del degli stati membri in cui c'è una divisione di budget cui viene dato 32 euro al giorno a volontario se lo gestisce lui o lei coprendo il viaggio e il il packet money e via dicendo vita alloggio e trasporto locale sono decisi dall'organizzazione ospitante e vengono gestiti da loro e in più come vi dicevo c'è un periodo di formazione prima per poter accedere appunto alle opportunità quindi vi dovete sempre registrare al portale poi farete la formazione e poi potrete accedere alle diverse opportunità e poi chiaramente una volta selezionati ci sarà una formazione più specifica rispetto al progetto a cui parteciperete fatta dall'associazione di invio e tutta la formazione svolta durante perché durante non è che venite lasciati a voi stessi ci sarà sempre il contatto con l'associazione di invio e l'associazione ospitante vi darà chiaramente sostegno e adesso invece sì sì vi dovete accreditare la prossima scadenza per accreditarsi come associazione a settembre ma vorreste se per accreditare se per l'associazione di invio e se per l'associazione mi permettono avere un'attività internazionale di questo tipo nel senso noi abbiamo lavorato già con il programma del corpo per progetto di serietà ad esempio siamo stati accreditate abbiamo fatto domanda l'anno scorso abbiamo ricevuto l'accreditamento sì abbiamo delle attività in Turchia in Tunisia sì però diciamo che non non sono obbligatorie se voi avete già lavorato in cooperazione sicuramente avrete delle attività anche fuori non per forza con il programma ma non importa non importa purché ci sia purché ci sia un'esperienza pregressa dentro fuori il programma e dimostrate che chiaramente c'è una consapevolezza ci sono le risorse le capacità non non importa è tutto nel portale europeo cioè per le organizzazioni esiste il tender portal per i giovani esiste appunto il portale del corpo proprio di siderità esatto lì ci saranno le diverse opportunità per i giovani e che le associazioni potranno inserire chiaro però come associazione per poter partecipare bisogna essere accreditati altre domande ok adesso per concludere e dopo e dopo vi lascio vi volevo presentare una delle opportunità più uniche che rare che abbiamo in questo momento noi come associazione che quindi stiamo cercando dei giovani per poter partecipare a queste attività è un progetto che esce fuori da quello che ci siamo detti oggi perché fa parte di un progetto più grande che è rivolto più a sostenere le associazioni e creare nuovi metodi ma che è coinvolto direttamente anche i giovani questo progetto si chiama iYouth Innovative Youth for Sustainable Entrepreneurship e vuole un po' comprendere come i giovani possono sviluppare mettere in pratica le loro idee quindi Entrepreneurship sembra una parolona molto grossa ma altro non è che prendere le proprie idee e metterle in pratica saperle tradurre nella realtà quindi cosa farà questo progetto vuole creare dei vuole prima di tutto noi selezioneremo dei giovani giovani che vanno sempre ai 18 ai 30 anni che sono interessati a sviluppare una loro idea che sia di impatto sostenibile quindi l'altra chiave di lettura di questo progetto è la sostenibilità che può essere ambientale economica o quel che volete ci sarà una preparazione pre partenza e poi ci sarà un bootcamp un corso di formazione di 10 giorni che sarà fatto in Kenya quindi tutti questi giovani che vengono da Italia Kenya Ghana Svezia e Norvegia credo si incontreranno in Kenya per fare questo corso di formazione in cui si svilupperà un pochino quello che è il business plan quindi come sviluppare il business plan ma anche comprendere che cos'è effettivamente la sostenibilità ci saranno anche delle study visit e poi i vari gruppi di lavoro penseranno ad una possibilità di idea da sviluppare che chiaramente non deve essere voglio salvare il mondo dal cambiamento climatico nessuno si aspetta questo potrebbe essere un'idea come ad esempio voglio creare una doggy bag che risulti al pubblico figa che quindi crea branding e che poi la sviluppo la metto in pratica nella mia realtà nella mia comunità e che quindi diventi di accesso per tutti quindi tutti andiamo al supermercato e non ci vergogniamo di dire mi puoi dare gli avanzi e me li metti nella doggy bag perché risulta figo per dire un po' come alcuni marchi di bottiglie d'acqua quelle d'acciaio hanno fatto nel corso degli anni può essere un'idea qualsiasi che nasce un po' dalle idee dei giovani e questo sarà sviluppato dopo il bootcamp attraverso la creazione di hub locali quindi i gruppi dopo che sono stati formati in Kenya ritornano a casa quindi il gruppo italiano ritorna a Bologna e seguiti da un membro dell'associazione svilupperanno quest'idea l'idea sarà poi presentata tramite un pitch quindi un discorso molto breve che deve essere molto convincente nella conferenza finale in cui saranno presenti anche diversi membri di realtà economiche e via dicendo che ascolteranno la vostra idea e che sarà anche in live stream quindi potrebbe avere un seguito ora per quello vi ho chiesto la lista dei partecipanti perché in caso poi vi inviamo i maggiori dettagli della call e se siete interessati potete candidarvi sì non ancora e comunque non in Kenya ecco allora quando ancora non sappiamo le date specifiche sarà più o meno comunque in estate autunno si parla sì di quest'anno esatto altre domande sì esatto questa non esclude la possibilità di tutte le altre tra l'altro mi sono dimenticata di dirlo mentre col volontariato ad esempio c'è un limite se fai il long term gli scambi culturali invece il primo tipo di progetto che vi ho presentato non c'è un limite ne potete fare quanti ne volete sì hai 30 allora per minorenni sicuramente esclude il corpo europeo di sedere età quindi la seconda parte che abbiamo visto perché quelle dai 18 ai 30 cioè sicuramente l'erasmus plus invece gli scambi culturali ci possono essere diversi progetti per minorenni solitamente per minorenni o sono organizzati da realtà specifiche o da scuole o da comuni o comunque vanno dai 16 in poi però c'è c'è la possibilità sì sì poi se avete domande magari anche più specifiche perché avete un profilo particolare o perché siete interessati a trovare opportunità proprio calzate per voi vi ricordavo anche all'inizio noi abbiamo in collaborazione con l'informa giovani del comune di Bologna lo sportello finestra sul mondo che serve proprio a questo cioè voi vi scrivete ehm tramite l'email dell'informa giovani date un profilo eh il vostro profilo e la vostra richiesta e poi avrete l'opportunità di incontrare una persona del nostro staff che ha mezz'ora di tempo solo per voi e che quindi vi riesce a dare tutte le risposte del caso e tra l'altro più siete specifici nell'email dando proprio le informazioni quello che vi interessa la persona si può preparare un po' prima e vi può proprio dare diverse opportunità ad hoc proprio ad personam sì allora sono una parte del programma Erasmus Plus perché appunto l'Erasmus Plus è questo macro programma però è più nell'ambito accademico quindi in quel caso dovresti rivolgerti all'università no in quel caso sì in quel caso puoi sempre chiedere informazioni perché appunto noi comunque ci occupiamo di mobilità europea a 360 gradi poi direttamente lavoriamo con questi tipi di programmi però a livello di supporto e diciamo coaching sicuramente potrai chiedere informazioni sì si può sviluppare nei gruppi di lavoro anche perché poi la vi svilupperete come gruppi quindi magari tu parti con un'idea però poi andrà un po' tagliata rispetto agli interessi di tutti o può convogliare in un'idea unica altre domande vai sì allora scambi culturali quindi i progetti brevi che abbiamo visto all'inizio per giovani dai 13-30 anni non hanno limiti ne puoi fare quanti ne vuoi se invece ci muoviamo al volontariato le possibilità sono se fai un long term dopo cioè se fai un long term prima puoi fare solo un volunteering team di volunteering team non c'è limite ne puoi fare quanti ne vuoi se fai primo non short term individual puoi fare dopo un long term sempre individual oppure puoi fare sempre tutti i volunteering che vuoi se fai invece primo un volunteering puoi fare poi uno short term poi un long oppure fai un volunteering e poi solo un long questa è la la dinamica sì il numero massimo è nell'individuale esatto in realtà no non parti per forza da solo nel senso che il progetto è pensato come persona singola quindi non come gruppo come target però solitamente si trova in più volontari di media due tre volontari non è detto però solitamente il numero è ridotto comunque allora se vai nel portale diciamo quello del corpo europeo di federità dell'unione europea una volta che ti registri dovresti poter vedere solo le opportunità per te perché il portale sa se hai fatto già un long o no se invece ti affidi a dei portali che sono delle associazioni di invio in quel caso puoi scrivere all'associazione e chiedere è un individual è un volunteering noi ad esempio se è un volunteering team tendiamo a scriverlo gruppi di volontariato o volunteering team lo vedete proprio nella call proprio per dare l'opportunità di fare questa differenza sì allora progetti di solidarietà e in realtà di un grande tipo di solidarietà in questo alzimento di quali non stagiamo in quale se allora progetti di solidarietà non vanno in conflitto invece l'humanitarian o fai primo long e poi fai l'humanitarian se fai un humanitarian poi non puoi fare un long un long e poi un humanitarian esatto e in mezzo ci puoi mettere tutti i volunteering che vuoi esattamente esattamente ad esempio infatti soprattutto gli short term sono pensati per i giovani con minori opportunità che minori opportunità lo siamo un po' tutti nel senso che l'Unione Europea ha pensato un po' che ci sono dei giovani che per il loro background per il loro contesto hanno minori opportunità di partecipare a progetti di partecipazione e solidarietà non per forza bisogna essere chissà che ad esempio i needs i giovani che non sono in percorsi di occupabilità di formazione o di educazione hanno diciamo una una corsia preferenziale in questi tipi di progetti quindi quando leggete ad esempio che un progetto è da priorità ai ragazzi con minori opportunità non la vedete come qualcosa di discriminante ma come un valore aggiunto ad esempio possono essere anche ragazzi con minori opportunità le persone di seconda generazione o chi viene da zone rurali o chi viene dalle isole quindi io ad esempio che sono di origine siciliana quando vivevo ancora nel mio paesino di Missilmeri ero una persona con minori opportunità perché avevo meno opportunità di viaggiare ad esempio quindi è un valore aggiunto se vedete in una cosa le reputate di far parte di una delle categorie non intimiditevi e scrivetelo perché vi dà maggiori possibilità altre domande? direi di no comunque nel caso in cui doveste avere delle domande che vi sorgono durante i prossimi giorni o i prossimi mesi sentitevi liberi di contattarci di prendere appuntamento con lo sportello o di inviarci direttamente un'email o un messaggio su Instagram quello che volete il canale che preferite perché noi siamo sempre a disposizione io vi sì ultima domanda sì l'indirizzo email è projects con la S finale scambi europei chiocciola gmail punto com sì tutto attaccato con due S però gmail punto com il sito è www.scambioeuropei.info e da lì potete trovare anche tutti i canali siamo anche su Instagram su Facebook l'altra cosa è l'interessore di se c'è qualche possibilità che fanno a fare l'inforzo non vanno in conflitto l'unica cosa importante è che non partecipiate a due progetti finanziati all'Unione Europea contemporaneamente perché quello sarebbe double funding però se fate prima uno lo finite il giorno dopo partecipate ad un altro non è un problema cioè per farvi un esempio io ho fatto Erasmus Studio in Polonia per sei mesi poi ho partecipato a 300 scambi e 5000 training per dirvi quindi non va assolutamente in conflitto no ti direi di no a meno che c'è chiaro che di media quello deve essere la tua università a riconoscertelo se magari te lo riconosce come come valore aggiunto ci sono università che ad esempio riconoscono gli scambi come laboratori da tre crediti liberi per dire ricerca tesi la vedo più complicata chiaro che puoi sfruttare quel periodo per fare la ricerca tesi quello sì cioè magari insieme alle attività fai anche la ricerca tesi però dipende dipende dall'università ecco no puoi partecipare da universitario l'importante per questi tipi di progetto essere giovani dai se stiamo parlando di scambi dai 13 ai 30 anni se stiamo parlando di volontariato ESC dai 18 ai 30 se parliamo di umanitario dai 18 ai 35 questi sono gli unici esatto poi puoi essere studente puoi essere disoccupato puoi essere un tirocinante questo all'Unione Europea non importa importa solo che sei giovane altro ok allora io vi auguro buona serata e buone feste dato che adesso partirà il periodo festivo ciao a tutti e tutte grazie mille